Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio terzo video di Brawl Stars Allora, oggi siamo qui Speriamo sempre di trovare un brawler Perché non vi ho fatto vedere ma mentre spacchettavo avevo trovato Penny off camera Quindi comunque sto a un bel livello Comunque sto a questo livello Però comunque niente di che nel senso Penny Io vorrei trovare migliori Ad esempio questo è primo Rosa Anche stecca mi va bene anche se non mi fa impazzire Barry, Scar, Piper, Pam, Frank, Bibi, Morty, Stara, Eugenio, Spike, Corvo, Leon Tutti i personaggi che insieme andremo a trovare Allora direi che oggi iniziamo con Sopravvivenza Allora Mi viene un po' più sicuro in questo video Perché praticamente dopo tutti i video che sto facendo E quindi mi sento meglio Non so perché Però va bene Perché poi domani farò uno speciale per finire la scuola Ma veramente domani vi dico E vai, non è finita Poi a chi non è finita Scusate Non ci posso fare niente Però comunque Protestiamo contro un messo che deve finire prima Ok, balatino La scuola Sì, vieni Io vorrei portare anche dei video su Minecraft e su Playstation Inserisco Intanto mi laggia Però Non posso Perché non ho ancora capito come è finita Come devo fare Adesso ti aiuto perché è sport di Biter La planura Maremma Ha vinto lei Non ci credo Ah beh Però Comunque Abbiamo fatto Bene Non diciamo che Non ce la siamo cavata bene Abbiamo Comunque bloccato il direttore stella Non ho notato i messaggi Scusate i messaggi ma non li posso togliere Perché i miei compagni di classe Mandano Messaggi in continuazione E quindi non ci posso fare niente Però Allora se qualche mio compagno di classe Sta guardando questo video Non è per insultare però veramente Mi sto derompendo un pochino Allora Startiamo un'altra partita Se vedete la M Non so perché poi nei video Io non ho levato quasi mai a riguardare Però se vedete la M È perché io sto registrando Con quell'applicazione Si chiama Mobitan Quella Se l'applicazione Sarà scaricata potete registrare I video per cellulare Però Non si può togliere Quindi Se Vi da fastidio Non ci posso fare niente Anche a me da fastidio Anche a me da fastidio Perché Si brutto Dopodiché se si potesse eliminare Però continuo se le registra Dopo appena finire la nostra partita Io capisco Un'altra partita Un'altra partita S-ò Un'altra partita Un'altra partita Un'altra partita Our program Un'altra partita La気se Un'altra partita S-o esakkere o domani o dopo domani possiamo facciamo pezzo grosso più una delle modalità che non c'è che non mi piace come a raffagen cioè è bella però non sei quasi mai tu il il personaggio il pezzo grosso e quindi non è bellissimo c'è una possibilità su 250.000 ditemi se volete fortnite o minecraft io mi vado a documentare come si fa io i video non li sto ancora facendo in compagnia però le potrei fare tipo con goku game che se non lo conoscete è andata a visitare il suo canale poi andate a si andata a visitare il canale di noi di tu però qui tengo cioè poi a chi fanno scrivo io scp però è un canale che mi piace molto perché è molto divertente diverto sempre a vedere i suoi video guarda io me la gioco molto tattica ok no cavolo 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 va bene allora cambiamo la rete aggiustato c'è ho fatto un taglio piccolo però vabbè ho scattato poco perché ho fatto il taglio e ho aggiustato un attimo la rete abbiamo questa cassetta così al volo perché dopo questa cassetta non ne posso aprire più quindi solo questa poi ditemi dato che siamo in estate posso fare anche un video in campeggio mi potete e mi potere e mi potete anche che noia brutta linea scusate ma non ci sono linee migliori quindi poi mentre sono in vacanza potete anche suggerirmi delle ma sta tolacano no sto guardando io non cattopalm bravo cucciolo a badass la ulti di colt è fortissima perché praticamente si spara tutti quei colpi a raffica ok 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 cioè giocava molto tattica sempre perché è molto difficile essere colpi perché vabbè facciamo tanto possiamo fare quanto volete però comunque è difficile è difficile è difficile perché c'è poca vita possiamo mettere questi punti energia li mettiamo che volevo far salire di livello spero che ci sia anche nello show c'è nello show comunque forse domani uscirà un altro video speriamo che esca un altro video però comunque per ora rimaniamo su un video tipo il giorno non so quanti video sto facendo perché comunque il canale ce l'ho aperto da poco quindi video li faccio quando mi piace perché è bella ditemi se vi piace anche la skin di colt perché io l'ho vista appena nel negozio ha detto no è troppo bella la devo comprare poi ho visto che questo anche girava ho girato poco poche quindi ho detto no è stato rispetto proprio cioè aspetto di fare il video e aspetto di aprire il canale e aspetto di aprire il canale fare il video questo se ne va e quindi io ho dovuto sciopare però è bellissimo guardate ciao ma ve la faccio vedere me qua guardate è fatta c'è c'ha dietro un fulmine perché molto veloce poi c'ha le due pistole poi c'è anche il bombardino che è bellissimo proviamo voglio vedere come sbatte torte dai proviamo ma in questi episodi proviamo però voglio provare con voi anche bibi ok perché alcuni di voi non ce l'avranno però la potete provare non 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 Poi vi devo far vedere una cosa E molti di voi forse l'hanno visto Però Hanno visto il carletto bellino Guardate quanto è bellino Carlo Spericolato si chiama E' bellissimo Al posto del piccone lascia la Lancia la chiave inglese C'è una macchina Tipo la macchina di paperino E guardate come fa la ulti Aspetta andiamo in qui Però va molto veloce Fa la ultima Anche qua Anche qua Ok E' bellissimo Andiamo contro lui che spara Almeno lui Chiunce la pistola Proviamo l'ultimo brawrel Brawrel Cioè Tre tre leggendarie Sarà Anzi no I leggendari scrivetelo nei commenti Quale volete vedere Allora noi proveremo il brawrel in tutti i video Facciamo così Questo è l'ultimo brawrel di oggi E scrivetemi E scrivetemi Allora vediamo una cosa Sì Da vicino fa più male Però E' forte Tara è forte Secondo me Sarà per la ulti Perché poi 1400 Lo fa anche Lo fanno Prima di tutti Cioè Lo fa Anche un robot Cioè Vedete Sono l'ulti Perché Lei prende cattura E boom Poi Lei prende cattura E boom Capito Quindi è molto Più forte Con la Solo per la Dai Ok Un paio Stai utile Boom 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 E' bellissimo E' una figata Incredibile E vai Buttiamo Ok Vabbè Vabbè Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate Un like E ai prossimi Vi lascio Vi dico 10 mi piace Perché se lo merita E il prossimo video Al prossimo video Cercherò Di farvi vedere Uno spacchettamento Di Più di 4 box Quindi Lasciate Un mi piace 10 mi piace E vi porto Questo spacchettamento Comunque Io vi saluto E' E'